Penso non si può pretendere di più da un corso, essere coinvolti divertendosi. Normalmente le lezioni che vengono fatte nei corsi sono interessanti ma spesso anche noiose. Invece in questo modo si trova un sistema per coinvolgere le persone facendole divertire, facendole appassionare e tirandogli fuori quelle cose che normalmente non vengono dette. Io sono saltato la prima lezione, la prima parte, e mi hanno fatto fare la seconda un po' forzandomi, è stato Moreno, mio socio, e devo dire che mi sono completamente ricreduto. Anche io ero un po' scettico ma mi è piaciuto molto il sistema che è stato utilizzato. Mi ha rammentato un po' quello che diceva spesso la mia mamma, che da insegnante di matematica, ad esempio quando facevano i grafici i ragazzi, mi chiedeva del calcio, di darmi le classifiche, perché voleva coinvolgere i ragazzi, voleva farli divertire e qualche giorno fa mi è capitata una sua allieva che mi ha detto che conosceva la mamma sentendo il mio nome, mi ha insegnato e mi ha detto che era coinvolgente e interessante e ci faceva divertire un mucchio. Tanto è vero che anche dopo sono andata a ritrovarla più volte. Questo credo sia un sistema per coinvolgere le persone e con questo gioco è stato fatto veramente e ci siamo divertiti, appassionati, è stata una cosa eccezionale.